Siamo riusciti a contrastare un reato che ancora non si era concretizzato, o meglio, la fattispecie criminale, quindi una grande attività di contrasto, quindi con l'arresto di due rapinatori, sequestro di armi, ma nel contempo siamo riusciti a dare un pezzettino perché siamo intervenuti con estremo tempismo e abbiamo probabilmente evitato delle fattispecie di retrato più gravi. È stato un battesimo di fuoco quello del nuovo questore di Arezzo, Bruno Failla. La prima giornata di attività si è infatti conclusa con l'arresto di due pericolosi pregiudicati ed una rapina sventata. Si è presentato alla stampa venerdì mattina il sostituto di Enrico Moi al vertice della questura di Arezzo, romano, al primo incarico da questore, è stato infatti promosso dirigente superiore dal Consiglio d'amministrazione del personale della Polizia di Stato lo scorso 23 marzo. Io sono felicissimo di aver risultato l'incarico di questore di Arezzo, una città che voglio conoscere pienamente, completamente, chiaramente sto incontrando tutte le istituzioni, le autorità, mi ha fatto molto piacere incontrarvi qui oggi per avere un contatto diretto perché appunto nel mio pensiero di entrare in città voglio conoscere tutte le componenti ed è un mio forte pensiero e il sentimento quello di conoscere e assemblarmi, integrarmi in questa città che per me chiaramente è nuovo. Nell'illustrare la sua precedente attività svoltasi in prevalenza a Roma in ambito operativo, il nuovo questore di Arezzo ha ricordato la necessità di essere vicino alla gente in maniera collaborativa, sottolineando così l'impegno della Polizia Aretina in tal senso. Grande impegno verso la sicurezza dei cittadini, sicurezza partecipata, il mio obiettivo è quello di innanzitutto parlare, parlare con tutti, partecipare per cercare di risolvere le grandi e piccole problematiche, con la partecipazione, con le istituzioni, con i cittadini, con i comitati, con le persone anche comuni, avere un dialogo per cercare di inquadrare e risolvere i problemi e quindi cercare di rendere più sicura questa città. Avrà capito che Arezzo è la città dell'oro, oro in senso positivo per l'economia è il punto debole invece dal punto di vista della sicurezza. Il problema delle aziende di settore che crea un indotto economico sicuramente interessante per la città crea dei problemi che però io li inquadro in un ambito di contrasto alle problematiche criminali e quindi è un concetto di concretizzazione di sicurezza che rientra in un ambito fattibilissimo e anche rispetto ad altre situazioni che vanno comunque affrontate e comunque contrastate per dare sicurezza ai cittadini e quindi intervenire per cercare di creare una vita ordinata, tranquilla, serena.